Arriva un momento in cui il pilone non resiste più per fatica, per fatica, perché sono materiali che si affaticano. Se questa fatica avviene con uno stato di deterioramento, anche di solo invecchiamento dei piloni, e non si è intervenuto provvedendo a rinforzarlo, il pilone può andare in crisi. Serve una disciplina rigorosa dei mezzi pesanti, non possiamo permetterci un'altra Genova. Con queste parole, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ribadisce la necessità, che deriva dalla relazione dei tecnici del MIT, di limitare il traffico su A24 ed A25. Limitazioni, auspica sempre il ministro, che inizino il prima possibile, annunciando che sono stati sbloccati i fondi, 192 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza. Il ministro ha detto, e lo dobbiamo ringraziare di questo perché nessun altro l'ha fatto prima di lui, che ci sono 50 milioni disponibili nel 2018 e 142 milioni disponibili nel 2019. Questo recita il decreto legislativo di Genova del 28 settembre 2018. Il suo direttore generale dice invece che questi soldi non sono ancora disponibili. e quindi lui si rifiuta di firmare i decreti di approvazione dei progetti, che noi abbiamo presentato già da molto tempo e che il provveditorato di Roma ha già approvato, si rifiuta di firmare questi decreti fino a che non c'è certezza che ci siano questi soldi disponibili. Nel frattempo, ieri, in Regione Abruzzo, c'è stato dibattito in Commissione Trasporti sullo stato manutentivo e di sicurezza della rete autostradale abruzzese. Fari puntati ancora una volta sulla A24 e sul degrado dei piloni dei viadotti, a partire da quello di Bugnara. Nuovo senso civico e forum dell'acqua Abruzzo hanno chiesto misure urgenti e analisi statiche prodotte da enti pubblici. Noi riteniamo che, viste le condizioni dei viadotti, serva una verifica di un ente pubblico, cioè tutta la parte statica deve essere vista con le prove sul calcestruzzo e così via dall'ente pubblico, per tranquillità di tutti, sia di strada e dei parchi, sia del Ministero, sia soprattutto degli utenti. Vogliamo verifiche attente sulle somme spese, su quelle che non sono state spese, anche perché noi paghiamo fior di tariffe per questa autostrada che è molto costosa e vorremmo capire come sono stati spesi i soldi. Dal canto suo, strada e dei parchi ha ribadito che, secondo le sue analisi, l'autostrada è sicura in condizioni normali e non c'è ancora il bisogno di chiuderla, nonostante la resistenza sismica dell'autostrada fosse già sotto esame dal 2009, anno del terremoto a Quilano. Noi abbiamo fatto tutte le verifiche che il Ministero ci ha chiesto di fare, tra l'altro ci ha chiesto di farle non con le norme e i calcoli dell'epoca del progetto, parliamo del 1960, ma di riverificare tutto con i carichi e le norme recenti e da lì è risultato che tutti i coefficienti, tranne in 4 o 5 casi, sono superiori all'unità. La legge dice che se il coefficiente è superiore all'unità, la struttura è sicura. Oggi il capo della protezione civile Borrelli ha ribadito la necessità di un maggiore monitoraggio del degrado delle infrastrutture e di un grande piano di adeguamento sismico delle stesse. Autostrade per l'Italia, che gestisce la 14 abruzzese, sempre ieri in regione, ha rassicurato tutti sugli investimenti che si stanno mettendo in atto per manutenere i viadotti, a partire dal Salinello. 1.500 metri di lunghezza, 37 campate. Su questo viadotto partiremo per lavorare su sei campate, che sono le campate più importanti che insistono nella strada di Fondovalle. Sta andando in gara un intervento molto importante di circa 4 milioni e mezzo per la manutenzione di tutti e 37 impalcati le pile e i pulvini.